Ed eccoci qua, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e soprattutto benvenuti ad una nuova nuovissima puntata di Voglia di Festa. Oh, a noi piace, quindi siamo veramente felici di darvi il benvenuto anche questa sera, 19.45 in punto e siamo qua. Questa sera, come ogni sera, ci dedicheremo chiaramente una puntata ad un comune del nostro territorio. Questa sera avremo il piacere di essere in collegamento con il comune di Cattano di Tramigna, che anche lì sappiamo che hanno tanta, tanta voglia di festa e quest'anno finalmente qualcosa in più si può fare, per fortuna e siamo anche felici di dirlo. Quindi abbiamo il piacere di essere in collegamento con il sindaco Maria Luisa Guadin. Buonasera Maria Luisa. Buonasera, buonasera a tutti voi e a te loro, grazie. Grazie, grazie, buonasera. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, ci fa davvero molto piacere. Sappiamo che poi voi avete davvero voglia di festa, siete come noi. La voglia di festa c'è e quest'anno finalmente si può tornare ad organizzare, a pensare e anche a poter fare qualcosa. Maria Luisa, le chiedo, quest'estate di bello, cosa farete a Cattano di Tramigna? Guarda, noi la nostra voglia di festa è partita ancora quest'inverno. Sfidando il coronavirus, ci siamo messi in moto per organizzare la nostra terza edizione della fiera dei prodotti agricoli della Val d'Alpone e Val Tramigna. È un evento che ho fortemente voluto portare nel mio comune e che faremo il 3 e 4 luglio, appunto, fra un mese circa, con una fiera itinerante che coinvolge 8 comuni, delle vallate e della Val d'Alpone e della Val d'Alpone. Praticamente sono coinvolte circa una settantina di aziende che esporranno nella nostra piazza, su apposite bancarelle, i loro prodotti di produzione che possono andare a fare salumi, formati, pari, miele, castagne, e pieghe particolari che è il nostro cavallo di battaglia, l'olio, il vino e quindi sarà un momento veramente di festa perché coinvolgendo 8 comuni pensiamo proprio di realizzare un bellissimo evento. Avremo nella mattinata del sabato un convegno che svilupperà diversi argomenti relativi all'agricoltura, avremo i saluti istituzionali di autorità e onorevoli vari, abbiamo avuto la partecipazione di tanti enti, attribuito in qualche modo per forza e sostegno all'evento e non da ultimo ricordiamo anche che in particolare il sostegno che ci ha dato il poste italiane per i piccoli comuni, le quali ci hanno realizzato una cartolina con la quale verrà fatto l'annullo filaterale al termine del convegno della giornata, della mattinata del sabato del convegno. Wow, davvero complimenti, vedo che non vi siete veramente, lei l'ha detto subito, ha detto noi non ci siamo annoiati, abbiamo voluto sfidare e metterci subito in moto perché sapevate già che comunque andavamo sicuramente in una situazione in fase di miglioramento quindi davvero bravi, anche perché le chiedo Maria Luisa, sappiamo che organizzare queste cose non è facile, però voi avete voglia, avete unione e quindi quando c'è unione in primi se la voglia di fare le cose voi riuscite a fare, chiaramente in questi anni, chiaramente da 2019 ad oggi di cose ne sono cambiate, però ecco quest'anno in questi termini, com'è organizzare? È ancora più complesso? Come funziona in un sistema comunale poter organizzare in sicurezza tutti questi fantastici eventi? Certo, gli adempimenti legati alla sicurezza sono sempre molti, infatti dobbiamo pensare a un piano di sicurezza che consenta gli accessi, la sorveglianza durante il giorno e la sorveglianza notturna perché avremo anche un'esposizione di attrezzi agricoli, ecco bisogna pensare a gestire le persone all'interno della fiera sistemando le persone con avuti a distanziamenti, sarà raccomandato l'uso della mascherina, ecco per cui avremo anche un pranzo a fine convegno dove anche lì dovremo rispettare le normative imposte dalle nostre leggi italiane in pratica, sì diciamo che non è così facile, è una sfida però abbiamo tutta la buona volontà di riuscire a farcela, ecco io devo in particolare ringraziare e far presente appunto sostegno naturalmente delle nostre associazioni e per cui della serie che l'unione fa la forza, l'amministrazione comunale con l'associazione, la Proloco, l'Avis, l'Aido, il gruppo Alpini e i volontari che vorranno aggiungersi, compresi i volontari anche degli altri comuni, sono sicure che assicureranno che il tutto si svolgerà nel migliore dei modi. Ci compiamo, siamo ansiosi che arrivi quel momento proprio perché è l'evento che ci permette di uscire a un certo punto da questo periodo un po' troppo rigurato anche tanto. Certo, 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 detto bene, davvero io ringrazio lei Maria Luisa perché ci piace davvero con quanta voglia, gioia di fare e comunque unione di far festa per i propri cittadini e non solo, anche per chi arriva da fuori soprattutto per far conoscere anche il vostro territorio a tutti e questo è davvero una cosa molto bella. È bello anche l'idea di ripartire con questo evento importante ed essere uniti, quindi davvero grazie. Ci fa piacere che ha sottolineato le norme di sicurezza perché sono cose che ormai si sanno, però mi piace sempre far capire anche a chi arriva alla vostra festa, alle vostre feste, che comunque c'è impegno e organizzazione e ancora di più oggi per poter dare gioia, felicità e spensieratezza a chi ha voglia di divertirsi. Quindi Maria Luisa, io la ringrazio, lascio a lei l'ultima parola e l'invito ovviamente ufficiale, prego. Certamente noi con il nostro territorio cerchiamo di fare del nostro meglio, stiamo organizzando nel migliore dei modi, diciamo, ecco perché vogliamo far conoscere i valori del nostro territorio, i nostri territori, i nostri prodotti, quindi il mio invito è a quanti ci ascoltano in questo momento, di dire, di andare a Cazzano di Tremigna il 3 e 4 luglio 2020 per festeggiare insieme e vivere insieme questo momento di festa. E allora grazie di cuore Maria Luisa per essere stata questa sera con noi e per aver accettato il nostro invito, io la ringrazio ancora, la saluto e soprattutto a casa ci vediamo il 3 e 4 luglio a Cazzano di Tremigna perché c'è da divertirsi e c'è festa. Grazie, grazie Maria Luisa. Grazie, arrivederci, grazie in tutti tutti. Grazie, grazie mille davvero e soprattutto voi a casa prendete nota perché adesso andiamo un po' in pubblicità, un po' di musica, voi lo sapete, e poi torniamo, ma giusto un po'. E poi torniamo con un altro ospite perché continueremo a parlare di Cazzano di Tremigna. C'è voglia, voglia, voglia e tanta voglia di festa. Musica a tra poco.